una volta un boscaiolo dopo aver finito di fare della legna andò dal vecchio saggio del paese e domandò quanto freddo sarà il prossimo inverno e il vecchio saggio dopo aver guardato fuori dalla finestra disse farà molto freddo allora il boscaiolo fece altra legna e poi tornò dal vecchio saggio e chiese di nuovo quanto freddo sarebbe stato il prossimo inverno e il vecchio saggio dopo aver guardato fuori dalla finestra disse farà molto molto freddo questo inverno quindi il boscaiolo fece ancora tanta 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 legna e poi già molto stanco tornò dal vecchio saggio e chiese nuovamente quanto freddo sarebbe stato il prossimo inverno anche questa volta il vecchio saggio prima di rispondere andò alla finestra e poi sentenziò farà molto 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 freddo a questo punto il boscaiolo incuriosito chiese ma scusi vecchio saggio come fa ad essere così sicuro allora il vecchio saggio portò il boscaiolo alla finestra e disse vedi quella capasta di legna sono giorni che un boscaiolo continua ad accumularne di nuova credo proprio che sarà un inverno molto 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 freddo grazie a tutti